I carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno sgominato un'organizzazione criminale internazionale femminile specializzata nel traffico di giovani donne nigeriane destinate alla prostituzione. 11 nigeriani, 8 donne e 3 uomini sono stati arrestati a Torino e in altre località sul territorio nazionale ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riduzione a schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Gioveni donne nigeriane reclutate nel loro paese e sottoposta a un rito di magia voodoo dopo un lungo viaggio da Nigeria alla Libia salpavano su gommoni diretti verso Lampedusa, ospiti nei centri di accoglienza per un pit stop fondamentale per permettere all'organizzazione di prelevare le ragazze e portarla a Torino. Le giovani erano poi costrette a prostituirsi per far fronte al debito contratto pari a 25.000 euro.